Campo Basso a lavoro per certificare definitivamente la posizione playoff. Al Selvapiana domenica sfida la Civitanovese penultima giornata di campionato. Nei lupi qualche noia muscolare per Cianci e Vitelli, due sembrano comunque recuperabili per la sfida di domenica. Assente Dragone per squalifica. Mister Bullo potrebbe cambiare qualcosa nell'undici. Iniziale, qualche ragazzo del vivaio in particolare, magari una chance dal primo minuto o a gara in corso. Come dalle parole di Marco Meo, non solo centrare definitivamente questo obiettivo dei playoff, ma anche valorizzare qualche ragazzo della Juniores, in ottica futura ma anche per un giusto tributo ad una squadra di giovani molisani capace di arrivare sino alla finalissima playoff. In tal senso, sabato a Celano per la finale, Juniores tra i padroni di casa e il Campo Basso, la nostra emittente sarà presente con diretta a partire dalle ore 16. Capo Basso dunque che vuole la vittoria. L'avversario di turno ha vissuto una stagione davvero travagliata. La Civitanovese esattamente un girone fa batteva i lupi 2-1 e si piazzava alle spalle della maceratese, decisivo degano con una doppietta. Poi il crollo societario e di fatto l'abbandono di ogni tipo di velleità. Come riportato anche ieri, la squadra marchigiana non si allena ormai da fine febbraio. I giocatori si ritrovano solo il sabato per preparare in qualche modo il match della domenica. diversi tornano nelle loro città di appartenenza in settimana per tornare poi a Civitanova Marche solo il sabato. Un crollo rappresentato dai numeri. Se un girone fa la Civitanovese era seconda, adesso è sesta. E dopo la vittoria sul Campo Basso sono arrivate solo due affermazioni, con sette sconfitte e sette pareggi. L'organico era da primi posti, se consideriamo solo la forza del pacchetto offensivo. Con Amodeo ancora ai vertici della classifica Cannonieri e poi degano con trascorsi in Serie A e per chiudere Pintori. Campo Basso che ad un girone di distanza, quinto posto dopo Civitanova Marche, ha recuperato di fatto una posizione. Proprio la discesa della Civitanovese ha permesso ai lupi di guadagnare il quarto posto. Cammino praticamente equiparato per farina e bullo. In caso di successo sulla Civitanovese domenica sarebbero uguali i punti ottenuti dai due tecnici nelle due gestioni con lo stesso numero di gare.